Gema, parola magica, ci hanno rubato 10 milioni di Euro e chi doveva controllare non ha controllato perché i rapporti fra Gema e l'amministrazione comunale di Cerignola sotto il centro-sinistra e sotto il centro-destra sono stati sempre elastici, tanto elastici da far sparire 10 milioni di Euro. Pensate, 10 milioni di Euro di strade aggiustate, di marciapiedi ripristinati, di illuminazione pubblica, di interventi sociali, 10 milioni di Euro delle nostre tasche spariti per l'insipienza, l'incapacità di queste persone. A questa gente voi, dite la verità, non affidereste nemmeno il condominio di casa vostra, perché volete affidargli l'amministrazione della nostra città? Io credo che non lo farete, un colpo di matita, mandiamoli tutti a casa, piazza pulita.